andiamo, già sei su candid camera già sei su candid camera no, questo è proprio più disegraziato questo è un cazzo su motocchi, fatendo eh anche i più piccolini, le più piccoli sono più so differenti da governare sta pur su cazzo di vietta eh no, a me mi interessa, si travesse mi mettono di faccia no, è che si strimma lo devi sempre correggere no, è che si strimma ma è che si strimma no, 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 è che si strimma ma la faccia ci ha messo quello all'arancione perché quella è la punta però tu vai da qua e lui la punta te la butta a sinistra vai da qua e la punta te la butta a destra però se stai con la punta davanti è il contrario quindi devi un po' famendolo e un po' se no lo devi ripopere se no se hai difficoltà lo perdi un capicino e quelle cari che non ci mettono però praticamente cioè cosa non ci dire con due mazze di un metro allumina una gifattoruccia questo qua è uno più piccolo con 6 euro una gifattoruccia le scatole cd gette nere avevo tubo corrugato un euro di 5 metro cioè il fascetto per metterlo qua c'avevo già due motori e fatto con quattro regolatori diverse ho già rivolto da pigliata pigliata lì non è più usato niente queste cose che cosa che ho tubo che c'ha tutto tutto fa pure sottare questo l'alluminio non si fa niente che poi è tutto avvitato sulla pei tuba è meglio questa che mi fa divertimento che l'alluminio non si fa niente 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 prima c'avevo i salveti con l'anellino ma ci imparavano poco ragazza non si fa niente non si fa niente ma ci imparavano Grazie a tutti. Grazie a tutti.